Stop al carbone di Mosca, tira in navi russe bandite dall'Europa, presto toccherà anche al petrolio e l'Unione Europea risponde ai massacri di Buccia e ai ripetuti appelli di Zelensky facendo un passo ulteriore per isolare economicamente la Russia. Il quinto pacchetto di sanzioni sarà approvato nelle prossime ore dagli ambasciatori dei 27 Paesi membri ed è stato annunciato da Ursula von der Leyen che tra venerdì e sabato sarà a Chieda assieme all'alto rappresentante Borrell. Ma stiamo già lavorando a nuove sanzioni, ha detto la von der Leyen, alla prossima tappa sarà il petrolio prima del gas. Grazie a tutti.